Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio, prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi che utilizzo nella stesa e in descrizione trovate i link per acquistarli, sempre in descrizione trovate i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana, inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro horoscopo mensile e quello lunare motivazionale e adesso vediamo che cosa vogliono dirvi le Sibille per la vostra settimana magari troviamo subito un messaggio importante o un tema che sarà dominante in questo caso può essere proprio un tema che può ricorrere nei vari giorni perché c'è il diario e l'ancora qualcosa effettivamente che state cercando, state studiando, valutando o cercando anche di risolvere qualche problema ecco pian pianino pian pianino potreste trovare delle soluzioni o se già avete pensato delle soluzioni state trovando solo il momento giusto per metterle in pratica o vedere man mano l'evoluzione delle cose il fatto che ci sia l'ancora può voler dire tante tantissime cose magari sentirsi più sicuri e trovare quel momento giusto per intervenire quindi bloccare una situazione e fermarla per agire immediatamente può essere anche un raggiungimento quindi finalmente un risultato mi viene in mente soprattutto per chi studia per chi sta cercando di approfondire un qualcosa le proprie conoscenze perché no o facendo un certo tipo di percorso ecco qui ci sono degli ottimi risultati un raggiungimento magari anche il superamento di un esame perché no per altri aspetti dico che è una bella carta perché è una carta di speranza è una carta di salvezza tipo l'ancora di salvezza vuol dire riuscire a trovare comunque delle soluzioni è di sicuro anche una carta di impegno di volontà quindi molte cose molti risultati saranno proprio il frutto del vostro duro lavoro che avete fatto precedentemente oppure magari continuerete a farlo proprio nel corso della settimana e adesso vi diamo altre informazioni troviamo il giglio appunto a proposito di cambiamenti positivi e risultati trovare anche più serenità soddisfazioni ecco come avete proprio la vostra carta quindi il diario e ribadisco insomma il concetto che sarà importante per voi in questa settimana magari riuscire a risolvere delle questioni potrebbe esserci anche una ricerca in corso e che quindi una tranquillità o riuscire a gestire meglio la vostra interiorità le vostre emozioni e quello che vi circonda vi permetterà di andare avanti trovare queste soluzioni o averle già e poi metterle in pratica come abbiamo visto man mano, man mano, perché qui in realtà si tratta proprio di rinnovamento di speranza, di obiettivi proiettati verso il futuro di una nuova ispirazione verso magari delle idee dei progetti ben precisi o anche semplicemente di godersi un momento una fase della vostra vita un po' più serena ecco in genere un po' più tranquilla quindi che si tratti di maggiore equilibrio e serenità oppure che si tratti di proiettare i vostri progetti importanti per il futuro quindi in questa settimana probabilmente ci sono le idee giuste le idee giuste, le soluzioni giuste magari lo studio proprio per appunto migliorare alcune situazioni e pianificare il vostro prossimo percorso i segni da attenzionare particolarmente per voi nella vostra settimana sono i segni di acqua e quindi abbiamo cancro, scorpione e pesci abbiamo un pochetto un pochetto anche quelli di aria quindi gemelli bilancia e acquario gli altri che non ho detto non è che non avrete a che fare che più o meno le cose sono già come le conoscete andiamo a vedere adesso l'ambito amore per chi è in coppia troviamo mercante, sospire e gelosia allora qualcosa potrebbe sfuggire un po' al vostro controllo e quindi sentirvi emotivamente instabili la carta sospire e attenzione a volte può voler dire che si è in una fase di trasformazione, di valutazione si ha bisogno di raccogliere un po' le idee fare ordine soprattutto dentro se stessi per cercare di capire come portare avanti alcune cose a livello personale potrebbe essere qualcosa a livello personale che purtroppo va a riflettersi nella coppia quando dico che va a riflettersi nella coppia è inevitabile perché essendo in due ma effettivamente una persona tra virgolette unica certe cose le sente anche l'altra persona quindi se non volete preoccupare se volete prendere il controllo in alcune situazioni comunque l'altra persona se ne accorge e quindi si vede un po' di sospetto un po' di tensione se sono cose che riguardano proprio la gelosia allora di vedere, valutare quindi di non mostrare troppa gelosia e ansia se è qualcosa di ambiguo e di strano che sta succedendo in senso lato probabilmente c'è bisogno di recuperare un po' ordine nei vostri pensieri per far sì che voi possiate ragionare, pensare, parlare e rivolgervi all'altra persona con molta più tranquillità perché se siete troppo incerti non riuscirete neanche a comunicare in modo chiaro, tangibile l'altra persona potrebbe non capire niente di quello che desiderate, di quello che volete vediamo un po' cosa vogliono dirvi per sempre ambito amore chi è single dispiacere e conversazione, gran signore ed ecco dal dispiacere effettivamente che può riguardare già una situazione in corso oppure potrebbe esserci proprio nella settimana un dispiacere è sentirsi limitati qualche sacolo, qualche problema soprattutto se state frequentando qualcuno ecco questa fase va superata quindi sarà magari una giornata, qualche ora qualcosa che non procede bene però arriva una comunicazione, un incontro un qualcosa che va a ristabilire un equilibrio quindi sapete che se state conoscendo se c'è questa fase di conoscenza c'è solo questa piccola situazione questa mancanza o di attenzioni o di mal comunicazione però tutto andrà a risolversi probabilmente ci sono delle questioni importanti che dovete valutare se invece non c'è proprio nessuno effettivamente queste carte possono parlare appunto di novità che arrivano e che vi portano qualcosa qualche, io dico novità nel senso o qualcuno che già conoscete quindi di incontrare una persona interessante che state osservando, state valutando potrebbe interessarvi oppure potrebbe essere una nuova persona una nuova conoscenza e che quindi potrebbe rinvigorire un po' la vostra vita sentimentale quindi apportarvi quella carica di novità appunto e andiamo a vedere adesso tutti gli aspetti più pratici per chi ha il lavoro abbiamo denaro stanza ci sono delle questioni legate al denaro effettivamente possono arrivare delle novità interessanti nel senso di ricevere degli aiuti ricevere dei soldini soprattutto se li avete prestati o in qualche modo state aspettando che vi arrivano questi soldi ecco può esserci qualcosa di questo tipo a volte può essere una carta legata ai rapporti lavorativi o a una voglia di rinnovare la propria vita lavorativa finanziaria ed economica in genere e allora quindi si devono valutare alcune cose l'abbiamo visto proprio dalle vostre energie principali qui si devono valutare si deve aspettare si deve proiettare nel futuro le vostre ispirazioni i vostri desideri non dovete avere nessuna fretta quindi valutate ogni aspetto la leggerezza potrebbe non aiutarvi quindi il desiderio sì però cercare di valutare concretamente la possibilità di un progetto poi soprattutto se dovete fare degli investimenti importanti soprattutto se state cercando lavoro effettivamente c'è una fase di attesa prendetela con spensieratezza nel senso che queste carte vi stanno dicendo che solo una fase momentanea probabilmente nel prossimo futuro o nella settimana successiva arriveranno comunque delle notizie più importanti per voi si conclude qui la lettura vi ringrazio per avermi seguito se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro horoscopo mensile e quello lunare e finnicinale alla prossima vi auguro una buona settimana ciao ciao